Ma certamente questa commissione nasce nei migliori auspici, soprattutto perché pone in campo diversi pilastri strategici per la nuova Europa. La sicurezza, la competitività e se vogliamo anche la difesa delle nostre frontiere da una immigrazione irregolare. Sono tre pilastri che significano da un lato la crescita economica e soprattutto se vogliamo la migliore qualità della vita dei nostri cittadini europei.